E poi naturalmente abbiamo il capitolo 4. Il buco nero all'origine del tempo. Singolarità a spazio-tempo. Esatto. È brillante. Brillante. Eccellente. Quindi non ci resta che dire ben fatto. E per essere più precisi hai conseguito il dottorato, Stephen. Bravo, Stephen. Una teoria straordinaria. Grazie. Ora che farai? La dimostro. Ti mostrerò con una singola equazione che il tempo ha avuto un inizio. Non sarebbe grandioso, professore? Un'unica, semplice, elegante equazione per spiegare tutto. Sì, Stephen. Lo sarebbe senz'altro. Grazie.